Torna di attualità la discussione sulla nuova Pescara, c'è una legge regionale, ci sono ancora però delle resistenze. A Pescara c'è stata la Commissione Statuto che ha parlato proprio dell'importanza di arrivare entro i termini stabiliti alla nascita di questa grande città. A Montesilvano si chiede una riflessione, si chiede anche l'intervento della regione, così Presidente? Sì certo, ma la riflessione non è stata chiesta solo ed unicamente da Montesilvano, è scaturita da una riunione fatta con i tre Presidenti dei relativi consigli comunali delle città interessate, ovvero Pescara, Montesilvano e Spoltore, se non vado errato all'inizio di luglio, dove insieme abbiamo deciso che era il caso di sentire la nuova amministrazione regionale in quanto cambiata da quella precedente. E' vero che c'è una legge, noi siamo pronti a rispettarla, ma ci opporremo fino alla fine e se ci fosse, se ci dovesse essere una scucitura, un qualcosa che possa evitare questa sciagura, io la chiamo sciagura almeno per la città di Montesilvano, noi siamo presenti e ce la metteremo tutta. Quali sono i motivi della vostra contrarietà alla nascita della nuova Pescara? La contrarietà perché non abbiamo, per quanto è a nostra conoscenza, non abbiamo nessun evidenziato nessun vantaggio che possa derivare da questa fusione, solo la perdita di identità di una città che ormai ha 60.000 abitanti e ha dimostrato con, faccio un esempio che non è a caso, con il concerto di Giovanotti di essere una realtà veramente a sé stante che può autogestirsi come ha sempre fatto e lo farà. Ripeto, oltretutto il referendum, come tutti ricordiamo, fu fatto nel 2014 in contemporanea con altre tre consultazioni. A me sembra che il minimo indispensabile sindacale sia quello di riproporre un referendum specifico solo sull'eventuale costituzione della nuova Pescara. Mi sembra un modo rispettoso nei confronti dei cittadini di Spoltore e di Montesilvano.